signore e signori buonasera eccoci qua oggi ci troviamo al caffè farà sunderland col nostro chef gerardo falivene ciao a tutti chef oggi cosa ci preparate di buona proporrò un astice alla tropeana questo è un astice vivo si ancora vivi astice alla tropeana si faremo pollire quest'astice con del cerito mato cipolla di tropea olio evo e prezzemolo molto semplice e dopo proponerò un linguino col chile di astice solo chile si con crema di cipolla di tropea una marmellata perfetto ci vediamo dopo ciao da chef gerri siamo io qui sintonizzati sintonizzati e la cucina dello chef gerri dove prima ci ha elencato gli ingredienti per fare il suo special piatto allora cosa l'astice tropeana l'astice tropeana il nome del piatto è l'astice tropeana un piatto particolare familiare di famiglia ok di tropea già tagliata pomodorini marinati marinati con limone aglio e olio evo ok le due astice sono già pronti per essere tagliati e guarniti ci vediamo tra poco al finale del piatto grazie di nuovo che a chef gerri zunderland caffè farà ed eccoci qui il nostro il nostro ultimo step ed ecco il nostro chef gerri all'opera che sta impiattando il nostro il suo piatto ed eccolo qui signori chef gerri ecco la mia assice tropeana finita e facciamo alla insalata ed ecco qui che bellezza per notare l'impiattamento ma del sud sud italia eccolo qui un inquadratura zoomata al piatto allora qua che cosa abbiamo cioè abbiamo una cipolla di tropea marinata con pomodorini di collina con wild garlic un'emulsione di cetriolo basilico e astice perfetto quindi è un piatto fresco qui abbiamo piatto piatto molto fresco quindi per la stanza di tali si stagionale diciamo ora ci troviamo in estate grazie tante arrivederci come chef gerri arrivederci ciao